ciao anna ciao giudia ciao come stai molto bene felice di essere qui a taranto già una bella giornata molto bella bellissima cosa vediamo allora oggi vediamo una più quattro mani da ristrutturare al terzo piano bene io sono curiosa di vederlo andiamo andiamo a Grazie a tutti. Allora Anna, che cosa ne pensi? Io credo che oggi abbiamo visto un'ottima tela bianca dove ognuno può ridisegnare i propri spazi a seconda delle proprie esigenze. Siamo Anarita Morelli e Giulia Morelli di Remox Stella Polare. Atteniamo i vostri progetti. Chiamateci, vi aspettiamo. Allora Anna, che cosa ne pensi? 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 Allora Anna, che cosa ne pensi?